Si Ok Allora praticamente con le pistole in mano Praticamente salite repentinamente Avete 140, 130 105, 85 di iniziativa Quindi il primo è Karad Perfetto, targetto il primo Il killer 3 Allora se ti ricordi Si posso sparare un colpo o tre In successione no? Esatto, puoi sparare fino a tre colpi in successione Però devi mettere la penalità No ne sparo uno solo Potenza massima Ok, vado Non ce n'abbiamo una mappina Della stanza suppongo, vero? No, perché la stanza è talmente piccola che non ha senso Comunque muoversi all'interno Della stanza, cioè siete a tre metri Di distanza ciascuno Per cui tipo non ha senso Noi comunque siamo davanti alla porta Quindi nessuno dovrebbe sfuggirci Hai fatto danno? Si? Si, ho messo quattro Hai fatto danno regolare Quindi non gli hai fatto un danno Però aspetta Ti volevo dire una cosa No, a posto A su A posto no Se facevi un extreme success Con la pistola Dovevi aggiungere Un dato di danno Che era praticamente la goccia Quella in basso Però mi pare che lo fa Ora lo fa lui in automatico Hanno sistemato così lo script Lo fa lui in automatico Buono buono Killian Non c'è, non c'è, non c'è una vita, va bene E se vuoi divinire il terzo Ok Tarchettalo Tarchettalo Sto provando C3L C3L Contro Dal combat tracker Sì C3L Ok, si, si, è poco Devi tirare la percentuale dal main Questa è la scena che vedete all'interno della stanza Mi ero diventato Fantastico C'è pure un segno Cos'è in fronte? Infatti Eh, sarà po' che segna di qualche culto È stato marchiato Non se l'hanno passati Non se l'hanno passati Bastati senza gloria Penso a disegnare spastiche in giro Però quindi non credo Il tuo povero amico squartato Il tuo povero amico squartato Che sfiga Amico o amante? La percentuale No, non è più amante adesso Eh, caracassi Ah, extreme success Ho fatto Killian No, è hard success Ah, no, è hard success Come ho detto Allora non mi fai niente A meno che non lanciano qua Devi tirare solo il danno Devi tirare solo il danno Eh, di danno Sì Sì Eschi Non c'è neanche l'immagine Di questi Killian Sola vediamo un po' Allora io di colpine Sparo 3 No, non c'erano L'immagine Sì Poverino Jackson Ah, non schiava Jackson Ah, sì Vado a via Vai La penalità l'ho messa Vediamo Regolar success Yes Peccato Danni Ah Poi Sparo gli altri due colpi La penalità l'hai messa, sì Ah, no Nel secondo no Eh, mettila Nel primo sì però L'avevo messa Ok Un da Più una penalità Buono Ok, danno Peso Ancora 3 Ok Terzo attacco Ah, questo fail Niente Posso già ricaricare O ricarico il prossimo turno Eh, allora Puoi Quanti pallotto l'hai sprecato? 3, giusto? 3 Quante ne hai ancora? Segno 6 in tutto Ok, quindi Ne puoi sparare l'altra te Quando le finisci tutte Ah, dopo Ricarico No, ti permetto In volata Di caricare Una Una pallottola Di sparare un colpo E però con la penalità Perché tu Praticamente carichi Una pallottola E spari Sì Se no Per caricare Tutto il caricatore Mi devi perdere un turno Quindi poi deciderai Chessi? Allora Anch'io sparò Un colpo Al killer 3 Aspetta Ho sbagliato E vabbò Quanto alto? Sbagliato Solo un tiro Hai fatto Ragazzi Il killer 3 È incredibile Ancora vivo C'ha un punto ferita Però la cosa assurda È che siccome Non gli avete fatto Gli avete fatto Tutti dei danni Diciamo Sotto la metà Del suo massimale Non ha avuto Un'emorragia O comunque Una cosa Talmente grave Che rischia di Uno sciocco Di Perdere conoscenza Quindi Il bastardo Prova ad attaccarvi E prova ad attaccare Karad Prova ad attaccare Karad Questi tizi Ci hanno in mano Un oggetto Che si chiama Pranga Ok Che è praticamente Ora vi dico Che cosa è Una mazza Coi chiodi Sì È Una specie Ecco Allora È un coltello Lungo Africano Che viene utilizzato Per Per tagliare Diciamo I rami Dei cespugli Per farsi strada Lungo la giungla O squartare Gli amici di cespugli È una È una specie Di macete Praticamente Però si chiama Pranga Perché ha questo nome In Africa Ok Ma è una specie Di macete E prova ad attaccare Karad Proprio con Il macete Prova un dodge Provi un dodge E dove ti metteresti? Ehm Oddio Non so Non c'è lo spazio Sono Sono il primo Dietro è morto Sì Vedo Eh mi sa che non c'è spazio Quindi Eh no Alla fine Sarebbe un problema Non saprei Ehm No Allora Puoi provare A evitarlo Col dodge Ok Per terra Vediamo un attimino Vediamo Sì 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 Allora Ti ha fatto Incredibile Te l'ha fatto in automatico Il dodge Non ci posso credere Guarda Ci sei Hai visto? Eh Ho tirato Il dado Il dodge Sì Ma l'hai tirato tu? Sì L'ho tirato io Mi sembrava che l'hessi fatto in automatico Allora Entrambi Ho fatto Regular success Praticamente col dodge Quando Si ha entrambi Lo stesso tipo di successo Vince il dodge Mentre invece Se tu provavi A fare il contrattacco Con Risultato uguale Vince Chi ha Attaccato per primo Sì Ok Però col dodge Vinci tu Quindi praticamente L'hai evitato Vittoria Sì 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 Lo puoi attaccare con le unchi Con le unchi A unghiate Sì Non puoi attaccare con il suo stesso corpo A unghiate lo puoi prendere Non puoi tirare Le mancano l'HP Visto che pesano a 180 kg Eh infatti Faccio tipo Un acculato Una bomba Bomba E buh Ci provi Mimimino addosso Eh dipende se Vale come fa No è che no Mimimili non so Com'è Tagli un pugno Come Eh tagli un pugno Usa mani nude Tipo Questo tizio Però quello risponde col pranga Vi dico subito Che risponde col pranga Ah effetta praticamente Divento un prosciuttono Tiragli un dizionario del tizio Che quelli pesano Tiragli un dizionario Oppure mi difendo col corpo morto del tizio Ma fa veraccio Già è morto Già è morto Aperto E voglio farlo aprire Ancora di più E lo fai E quindi Aspetta Temporeggia Non so Temporeggia No Non si può disarmare Qui la gente Non lo so Fai la sensuale Distraigo Fai vedere lo stacco di coscia Così si distraigo Fa vedere lo stacco di coscia Vale ma si può disarmare qui Su Si può disarmare Ci sono le manovre di combattimento Ma dove si trovano? No è sempre Un fighting Ah ok Però se tu ci fai caso Accanto a fighting C'è brawl Che brawl sarebbe Tipo il wrestling Cioè tu fai Delle manovre Con delle leve E cose di questo tipo E praticamente Puoi cercare di disarmare L'avversario Oppure Bloccarlo con una leva Ok Ma dov'è brawl? Se ci riesci Se ci riesci Non fai il danno Praticamente Però riesci Nel tuo intento Cioè lo disarmi Oppure lo blocchi In una leva Se però lui Riesce A farti Il contrattacco Non lo fermi In una leva Ma lui ti fa danno Quindi ragionaci bene Vero Poi Nel tiro di dati Comunque è complicato Qui su Su tour Complicato Che fai Sonia Eh Troppo Togli L'arma Eh Luigi Tu non hai fatto Il check for update Vero? Sei lo fatto? Il check for update No Luigi 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 Io tutto so qua Vedo tutto Vedo e provvedo No provvedo No Per quello di fare Tu il check for update Niente La prossima volta Non uscivo Non uscivo Tutto il tempo La nuova volta Avevi detto che Vabbè dai Sony Attaccalo E ti faccio squartare Dai No Dico Mi hai detto che Brawl Era Per fare cosa? Puoi anche provare A disarmare Ma attenzione C'hai il 25% Di Brawl E ci dovresti avere Un colpo di culo Proprio Ok E quindi Spè che faccio E Che ne so Conta le possibilità Con il 25% Non si sa Potresti aver culo E riuscire a disarmarlo O fare un fangolo E divertire sola Esatto Inciampi E ti si rompe una caviglia No Dai Faccio brawl Faccio fighting Ci provo Ci provo Allora Killer 3 Eh devi Mitafumble L'ha chiamato No E vabbè Però non ha fatto il target Eh lo so Non per dire Ah vero E mal per dire Fallo su 2 il target Così non attacca Tanto il 3 dopo lo uscidiamo E ha già attaccato Eh si fallo su 2 Ricordatemi Ricordatemi un attimo Come si fa il target Controllo Il tasto del mouse Tu li congina Della No Questa è Vittoria Hai target Da te stessa No Togli il target Da te stessa Se non ti autoblocchi Prevede già il fumble Ok E così confusa Scusate Scusate Ok Ora vado Vai Ce la puoi fare Oh Lullo di tamburibbo Gli ho messo pure il coro Il coro diciamo gotico Gli ho messo Ma è andata? Ma io non vedo nulla Eh deve ritirare Deve tirare Adesso È ottimato La serie Tiro Non ci credo Ce l'ha fatta Oh Successone Successo critico Ragazzi Ho il vero in uno Ragazzi Non ci posso creare Allora Poi niente Sai che facevi? Ti sei fatta un'arma Fai uno screen Della schermata Eh dimmi una cosa Praticamente Lo volevi disarmare O bloccare in una leva? Eh direi che lo paralizza Con lo sguardo Dopo questo numero E dai facciamo disarmare Meno un'arma poi Ok allora Mentre il killer Prova ad attaccarti Con il pranga Però Mi sembra molto difficile Che gliela fa Vediamo Fa pure fumble Praticamente Fa pure fumble Niente Quindi Non ti fa danno E tu riesci A disarmarlo Quindi il 2 Non ha più l'arma Oh yes Il 2 Non ha più il pranga Ora passa al 2 Però Può combattere Con i pugni È chiaro No? Eh sì Ma poi L'arma diventa Di victoria Certo Certo Poi li potete Spogliare tutti Questi qua Se volete Si vuole Non mi fa 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 Con quel morto Lì poi Come si Ha necrofilia Sì Attacchiamo tutte le osse Ci prendiamo l'avorio Anche se non c'è Ma comunque Avorio umano Il Killian 2 Attacca Killian Attacca Killian Con niente Con i pugni Con i pugni Tu mi devi dire Che cosa fai Se è controattacchio Cerchi di evitare Il cazzottone No lo evito E basta Allora lui fa 39 Successo regolare Ora fai tu il dodge Ti basta un successo regolare Per evitarlo Regolare Bravissimo Lo hai evitato Complimenti Nicolas Robinson Detto anche Crusoe Allora Robinson 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 Prendo il killer 2 Più c'era Come faccio A targettarlo? Allora Contro Le clicchi sopra Ok Lo saccagno di regnato Ovviamente Perché sono disarmato Ok Buonasera Ciao 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 Mi piacere Sono Paolo Sono nuovo Ciao Paolo Ciao Paolo Benvenuto Benvenuto Per attaccare Devo fare Devo fare Fighting Brawl Giusto? Fighting Brawl C'è la percentuale accanto Il 25 Ci clicchi due volte 25? Cioè no una volta Ci clicchi una volta Ok No Dove c'è la percentuale Devi cliccare Sul 25 Ah ok Fatto Potevo fare il No allora due volte Trascinalo Sì Sennò lo trascini Sulla chat Ok Perfetto Niente Hai Fallito Però Aspetta Però Quello Praticamente Contrattacca Killer 2 Quello Contrattacca Con i pugni Vediamo un po' Che succede E Fa Un successo Ah no Ragazzi Ho sbagliato Oh no Meno male Ho sbagliato Perché Devo mettere Ehm Un po' Bello Con quel tempo Devo già rifare La scheda Perfetto Posso unirsi alla campagna? Sì Ora troviamo Allora Ha fatto 18 Hard Sucks Per cui niente Ti prende mi sa Ti prende Salendo l'ansia Ai nostri personaggi Ma Ma Ti prende Ti ha fatto Ti ha fatto 3 di danno Nicholas Robinson Ti ha fatto 3 di danno Però è danno regolare Quindi non ti ha fatto Un danno da emorragia O un danno grave Quindi non perdi Conoscenza Puoi continuare a combattere Killer 1 Lui c'ha Il killer 1 Il pranga Paolo Non ti preoccupare Ti inseriamo Dopo questo combattimento Già so come inserirti Sì 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 Ti troviamo sotto il letto Praticamente Tu sei Sei l'amante Di quello morto Praticamente Praticamente Sei l'amante Un amichetto Non lo so Non ho altri modi Per inserirti Nella campagna Poi mi dovete spiegare Perché io Sarai la prima volta Che toccherò Sì intanto Devi scaricarti Fantasy Grounds La demo Ce l'ho già Perfetto Allora niente Poi Obblighiamo Giuseppe A farti da mentore Andiamo bene Andiamo bene Infatti Allora Finite di uccidere Questi qua E poi Inseriamo Paolo E niente Il killer 1 C'ha il pranga L'1 E attacca 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 Sonia Attacca così Perché Voglio attaccare Sonia Ma non mi pare Attacca Sonia Mi dispiaciuto Per l'amichetto Sì Attacca Sonia Col prangone Sonia tu che fai Cerchi di evitare il colpo O lo contattavi Poi ti prendi il prangone Il prangone Ma guarda questo Contrattacco Contrattacchi Allora Prima Questa vittoria è temeraria Il killer fa successo in regolare Allora fai tu il contrattacco Vai vai Successo critico di nuovo Sempre con dodge Contrattacco Contrattacco Oh Aio No 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 Ah no Scusa Hai fatto un constitution check Che hai fatto? Hai sbagliato? Sì ho sbagliato Ah meno male Elegante Mi dite come si fa Perché non mi ricordo Devi cliccare su Fighting Brawl La percentuale Ah ok Attenzione Attimi disaspetto Sì siamo in una stessa Scusate devo mettere la spunta rossa Accanto a Fighting No no Devi semplicemente trascinare Allora ok Sono Ok Come primo quindi Ok Io sì Niente Stavolta mi è andata male Eh sì Eh no Ti è andata male Ti fa danno Ti fa danno col frangone Però ti è andata bene Danno regolare Ti è andata bene Carab Eccomi Allora Quante pallotto L'hai sprecato? Una Ok Vuoi sparare Nel tre di seguito? No Farò sempre una sola Alla killer 3 Alla killer 3 Ok L'ammazzerò O più Ok Via Boom Ottimo Danno? Sbemone Eeeh